Salve a tutti, mi trovo a fare questo video perché veramente in tanti mi avete scritto in merito alle differenze tra gli acronimi o le parole stese tra UD, unità didattica, UA, unità di apprendimento e UDA, unità didattica di apprendimento. Allora, vi accenno che le risposte sono anche orientate al concorso, quindi nei quesiti probabilmente vi ritroverete una di queste richieste. Allora, per chiarire la richiesta bisogna fare riferimento alla riforma Gelmini del 2009 che è una riforma diciamo enorme e in questa riforma si passa dalle unità didattiche alle unità di apprendimento. Poi, per una serie di motivi, non mi chiedete quali, i testi hanno cominciato a parlare in maniera del tutto similare per intendere queste due approcci. Cioè, in realtà, l'unità di apprendimento e l'unità didattica di apprendimento le dovete intendere come la stessa cosa e, in realtà, sono quasi certo che alla prova scritta vi sarà chiesto o di realizzare un'unità di apprendimento o di realizzare un'unità didattica di apprendimento. Ma la richiesta è la stessa. Il dubbio, devo dire, è venuto anche a me. Mi sono andato a leggere la riforma e ho capito che, in realtà, dato che poi le conoscenze e anche le interpretazioni sono state fatte da tanti individui e anche poi trascritte in altrettanti testi, è ovvio che poi si è fatta un pochettino di confusione. Veniamo a noi e poi verso la fine del video vi prometto che vi faccio uno schema perché molti di voi apprezzano anche, diciamo, l'atto concreto, cioè il fatto di poter vedere in maniera distinta e grafica le differenze. Cioè, adesso vi faccio una... ci sarà una parte più argomentativa, più descrittiva, che è abbastanza in linea con quanto detto nella riforma e poi ci sarà una mia parte interpretativa che comunque sarà in linea con tutto quello che la riforma cambia, però pongo l'accento su le grandi differenze. Allora, io penso, ripeto, che per la prova scritta non vi sarà richiesto che differenza c'è tra l'unità didattica e l'unità didattica di apprendimento oppure la stessa cosa, l'unità di apprendimento. Io penso che molto semplicemente vi sarà richiesta un'unità di apprendimento o un'UDA che sono la stessa cosa. Però sappiate che se vi chiedono un'unità didattica in realtà sarà più facile paradossalmente perché si torna indietro, cioè vi viene chiesto qualcosa che è prima della riforma Gelmini. Allora, quindi in realtà da adesso in poi parlerò, per non confonderci, di UDI e di UDA. Allora, l'unità di apprendimento è la modalità progettuale che viene poi suggerita dalla riforma Gelmini. In realtà viene suggerita, però poi di fatto negli anni questo suggerimento è diventato un vero e proprio cambiamento, quindi di fatto ci viene richiesto di progettare secondo un'unità di apprendimento, ossia secondo un'UDA. Quindi la riforma Gelmini che cosa fa? Suggerisce di cambiare l'unità didattica verso l'unità didattica di apprendimento. Metto la di piccola così leggetela come vi pare, o unità di apprendimento oppure unità didattica di apprendimento è la stessa cosa. Allora, il cambiamento più grande è che il soggetto, quindi lo studente diventa centrale sull'attività didattica. Quindi il soggetto diventa centrale anche nell'apprendimento. Invece nell'unità didattica la centralità era data all'attività del formatore. Quindi centralità, io adesso vi sto parlando quindi dei cambiamenti e vado in merito proprio all'UDA che a mio avviso è quello che vi dovrebbero chiedere. Centralità, quindi tutto quello che dico lo ripeto così non ci si può, non si può, cioè è chiaro, non ci possono essere diciamo dubbi. Io adesso tutto quello che dico da adesso in poi è riferito all'unità didattica di apprendimento o all'unità di apprendimento. Lo ripeto tante volte perché poi ci si confonde. Scusate, a qualcuno sembrerò anche pesante, però siccome poi le ambiguità possono creare paure ed ansie, anche giuste, perché poi non si sa esattamente in che direzione prendere. Allora io pongo l'accento anche sulla... e parlo in maniera tale da non essere frainteso. Allora, l'unità didattica di apprendimento mette l'accento, quindi dà la centralità sull'attività del soggetto che apprende, quindi sul discente. Adesso per ora ve lo ripeto, l'unità didattica metteva al centro l'attività didattica, quindi l'attività del formatore. L'unità didattica di apprendimento deve essere agganciata ad un bisogno, ad un problema, a un compito, quindi non ha un argomento, ma dei temi generativi di carattere ampio. Quindi l'unità didattica poteva essere, ad esempio, sulla punteggiatura, mentre l'unità di apprendimento o l'unità didattica di apprendimento può essere sulla comunicazione efficace, su affrontare le conoscenze le abilità e quindi di conseguenza l'unione delle due per avere le competenze che riguardano l'uso corretto della punteggiatura nell'ambito del tema della comunicazione efficace. Ecco un esempio, quindi, di differenza tra unità didattica e UDA. Quindi l'unità didattica è qualcosa di molto più semplice, è qualcosa di più ridotto, ha un carattere generativo ridotto, con specificità. E quindi ovviamente si perde anche la centralità del discente, ma diventa fondamentale ciò che deve essere trasmesso. Nell'UDA, e qui scrivo tutto quello che è inerente all'UDA, lo ripeto, ci metto il giallo, ci faccio una cornice gialla così non vi potete sbagliare, si affrontano bisogni educativi con temi generatrici o generativi, meglio ancora, ampi. Quindi il tema dell'unità didattica di apprendimento non è parte del programma, perché poi nella riforma Gelmini si passa anche dai programmi ministeriali ai riferimenti, cioè alle indicazioni nazionali, ok? Quindi siccome l'unità didattica di apprendimento viene progettata, allora è progettata sulle indicazioni nazionali, questa è un'altra grande novità, e quindi vi invito a vedere per la vostra classe di concorso quali sono le indicazioni nazionali, ovviamente il riferimento all'ordine e al grado della scuola. E se è progettata sulle indicazioni nazionali, l'UDA non è solo parte del programma, ma comprende, quindi virgola, quindi comprende, oltre all'unità didattica, comprende l'UD, ma va oltre e quindi comprende anche uno scenario di vita extrascolastico, quindi elementi extrascolastici. interessi, le esperienze dei ragazzi. e da qui, dall'UDA, si deve arrivare a calamitare attorno a sé un determinato numero di obiettivi formativi. L'UDA ha una visione, potremmo dire, olistica, perché fa riferimento all'esperienza globale del soggetto, lo cerca di farlo emergere, di valorizzarlo, quindi è un'esperienza globale, è correlata, ve lo ridico, alle conoscenze, ho fatto un video su questo, e ci sono tanti, vedrete tanti commenti anche sotto e anche nella descrizione. Conoscenze, abilità, competenze. Tra l'altro, alcuni di voi mi dicono, ma che le descrivo per elencazione o per discorso unico? Io dico che nel librido, quindi nella soluzione mista, si trova magari la soluzione migliore. Cioè potreste anche elencare qualcosa relativamente alle conoscenze, alle abilità, alle competenze, ma a un certo punto poi cercate di fare anche una frase, delle belle proposizioni che rispondano al quesito. Tra l'altro, non avrete tantissimo tempo e sappiate che il numero dei caratteri, cioè dello spazio, delle lettere che potete utilizzare sarà finito, quindi non potrete rispondere ad un quesito con 5.000-10.000 caratteri, cioè avrete una quantità di caratteri prestabilita, ma non vi preoccupate perché per il tempo che avrete a disposizione sono più che sufficienti. Quindi, diciamo, con questo vado alla parte conclusiva, cioè di paragonare in maniera anche grafica e più esplicita le differenze tra unità didattica e unità di apprendimento o unità didattica di apprendimento, finisco dicendo che ovviamente l'unità didattica di apprendimento è anche quindi interdisciplinare. Queste sono tutte le caratterizzazioni dell'unità didattica di apprendimento, quindi centrata sulle competenze, sulle abilità, ha anche un compito di realtà, quindi il problema può essere anche un problema autentico, scrivo compito di realtà. Pluridisciplinarità. Ok, e mi riservo lo spazio qui sotto per andare a fare le differenze. Ok, quindi vediamo l'unità didattica versus a confronto UD, WS, UA o UDA. Da adesso in poi, per non fare confusione, perché ho letto tanti testi dove proprio a voler essere pignoli si potrebbe trovare qualche differenza, però siccome non stiamo facendo, non state facendo un esame sulla pedagogia, sulla psicologia, cioè stiamo facendo, state facendo un concorso basato su far vedere insomma le vostre conoscenze, le vostre abilità, le vostre capacità, quindi non bisogna secondo me fossilizzarsi troppo poi su delle differenze che potrebbero essere minime, anche perché a un certo punto si va inevitabilmente incontro anche a delle interpretazioni, cioè un determinato studioso può dare determinate interpretazioni e un altro studioso ne darebbe delle altre, quindi non c'è una visione poi univoca della realtà e quindi a questo punto per non creare più confusione le uniamo. Allora, sono diverse ovviamente le fasi, abbiamo detto questa è l'unità didattica centrata sui contenuti, su chi progetta i contenuti, quindi sull'insegnante, su conoscenze e abilità. Qui, nell'unità didattica di apprendimento, però le conoscenze e le abilità venivano, cioè non vi era tutta questa importanza delle conoscenze e delle abilità, quindi nell'UDA si arriva alle competenze, quindi scrivo direttamente qua, conoscenze, abilità competenze, se siete certi della differenza e se siete certi di come rispondere mettetecele, se avete dei dubbi è meglio che non ce le mettete. Io vi dico, tutto poi è in relazione al tempo che avete disponibile per prepararvi al concorso, quindi io cerco di farvi una trattazione completa, però cerco anche di darvi dei consigli. Quindi è centrata sul processo di apprendimento l'UDA e quindi sul processo che fa lo studente, processo di apprendimento studente. Aumento un pochettino lo zoom, mi metto 100%, tanto tutto quello che scrivo alla fine voi lo ascoltate, quindi anche se non è leggibile al 100%, voi lo capite. Quindi è centrata sul processo di apprendimento e di conseguenza sull'allievo, sull'allievo e quindi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze. Le fasi dell'Unità Didattica erano la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle metodologie e della verifica. Sto sintetizzando al massimo adesso nel fare il paragone. Invece, nell'approccio dell'UDA, le fasi diventano quella della progettazione, che è una programmazione contenente gli orientamenti, detta anche fase preattiva. realizzazione, che è la fase attiva, ossia gli alunni concretizzano l'unità di apprendimento attraverso percorsi individualizzati e valutazione. L'Unità Didattica viene usata la metodologia. Qui c'è un'indicazione metodologica, che tende quindi a orientare. Qui c'è una prevalenza di funzione didattica. Qui c'è una prevalenza di funzione formativa. Se qui si programmava, qui si realizza. Se qui si dava importanza al sapere specifico, e se lo voglio dire con una parola negativa, frammentato, qui si dà importanza all'unità del sapere. L'unità didattica era standard, uguale per tutti. L'unità didattica di apprendimento è personalizzata ed articolabile a sua volta in percorsi che a loro volta diventano personalizzati. Quindi c'è la personalizzazione. Guardate, io spero di aver risposto in maniera concreta e con modalità prima descrittive, verbali relative alla riforma e poi con una semplice tabella dove metto a confronto le differenze. Spero veramente di esservi stato di aiuto. Adesso lascio mi prendo anche del tempo per fare qualche commento. Io vi ringrazio veramente tanto. So che molti di voi che mi hanno scritto insomma mi hanno fatto capire che stanno facendo questo concorso però assolutamente è ingiusto dire che queste persone che stanno facendo il concorso straordinario sono fortunate perché lo stanno facendo veramente con difficoltà in un periodo drammatico in un periodo confusionale per cui tutti i concorsi pubblici sono stati bloccati ma non i concorsi in itinere quindi il concorso straordinario già è partito non lo bloccano e ci sono persone che devono anche viaggiare per determinate classi di concorso passare pure per diverse regioni purtroppo ci sono anche persone che sono in quarantena o malati di covid per cui la partecipazione non è al 100% ma ci sono sicuramente docenti colleghi che non stanno partecipando e viene fatta purtroppo la selezione più brutta più stupita che si possa fare cioè che chi sta male e fuori questo forse questo è l'elemento più drammatico perché ovviamente qui nel concorso in un concorso svolto così dove la parte che si ammala non è più una parte trascurabile ovviamente non si fa una selezione che a mio avviso non è una selezione meritocratica c'è qualcuno che tra di voi ha detto mi ha detto guarda bellissimo video chiarissimo però mi è dispiaciuta la sviolinata che hai fatto nei confronti del nostro ministro Azzolina io cerco di non parlare quasi mai di politica perché poi tutto quello che dico può essere frenteso io ho detto che sono tanto dispiaciuto per quello che sta accadendo probabilmente il nostro ministro il nostro governo ha preso delle decisioni che avvantaggeranno alcuni non tutti probabilmente nel prendere le decisioni sicuramente non si riesce ad accontentare tutti c'era bisogno del concorso non posso dire che era giusto farlo subito che era giusto farlo soprattutto in queste condizioni ci sono tanti docenti che vogliono farlo comunque altri che avrebbero voluto non farlo e sinceramente io non me la sento di a un certo punto di dare una risposta cioè non credo di poter essere io la persona così saggia da dire è giusto questo ed è sbagliato quest'altro cioè semplicemente io preferisco non cioè sicuramente traspare il mio punto di vista però preferisco non giudicare secondo me all'interno della nostra società troppi di noi tendono sempre al giudizio e non a fare autocritica cerchiamo di pensare a come migliorare noi stessi per migliorare la realtà perché attraverso una veste nuova che può essere la veste nuova di noi stessi migliorare le nostre i nostri limiti i nostri punti deboli anche a volte il nostro egoismo perché siamo tutti purtroppo soggetti anche ad egocentrismo all'ego che è una parte fondamentale citata più volte da Freud quindi io voglio cercare di rimanere entro i confini della cultura della conoscenza della diffusione di esperienze che possono essere un punto di riferimento orientativo che orienta per gli altri e io con questo vi faccio vi mando un caro saluto sono vicino a tutti quelli insomma che stanno attraversando momenti di difficoltà momenti di confusione momenti di debolezza e cerco insomma di venire incontro anche con questi video alla prossima e buono studio